Più che avere un cappellano sulle navi o nel porto, dobbiamo avere una presenza della Chiesa nei porti e sulle navi. E questa presenza della Chiesa nei porti e sulle navi può essere anche garantita da altre figure ecclesiastiche, ad esempio come un diacono oppure anche dei volontari che sono stati preparati molto bene. Purtroppo noi sappiamo che nella Chiesa il numero dei sacerdoti diminuisce e quindi i Vescovi sono molto irresti a mettere a disposizione dei sacerdoti per questo. Ma con dei laici ben formati si può continuare a mantenere la nostra presenza nei porti. L'altra cosa che voglio sottolineare è che l'Apostolato del Mare, che è nato circa cent'anni fa a Glasgow, il 4 ottobre del 1920, è iniziato con dei laici. I preti non erano presenti, erano soltanto dei laici. Quindi noi che l'anno prossimo celebreremo il centenario della fondazione dell'Apostolato del Mare, dobbiamo riandare alle origini e riscoprire questa figura, l'essere Chiesa come laici nei porti e insieme ai marittimi e ai pescatori.